Massimiliano Allegri si era dimesso dalla carica di allenatore della Juventus. Questa è la ricostruzione che viene fatta oggi da Gazzetta dello Sport. E devo dire la verità, me l'aspettavo. Aspettavate, non me l'aspettavo. No, me l'aspettavo, me l'aspettavo. Me l'aspettavo perché penso che sia una cosa perfettamente logica. E infatti ne avevamo sparlicchiato in realtà nei video precedenti. Forse non mi sono spiegato bene all'interno del ragionamento, soprattutto nel video ieri sera. Quindi andrò a toccare alcune corde che ho già appunto sfiorato nell'ultimo video caricato. Ma è essenziale per capire un attimo il discorso. Io credo che questa notizia ci dà un attimo la conferma di quello che abbiamo sempre detto all'interno del canale. Cioè, Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri sono in realtà un'unica persona. Perdonatemi, chi è cresciuto negli anni 90 come me potrà accogliere e apprezzare questa citazione. Junior è il Supremo, Piccolo e Kaisama. Sono la stessa persona. Se muore uno, muore anche l'altro. E a un certo punto, che cosa succede? Piccolo e Supremo si riuniscono all'interno di un nuovo namicciano. Che non è né uno né l'altro, ma è tutti e due. Lo so, per chi non ha seguito Dragon Ball è difficile comprendere questa cosa. Però mi sembra veramente il collegamento perfetto. Perché saltando la testa del presidente, quindi Andrea Agnelli, Massimiliano Allegri e Federico Cherubini, che erano legati appunto alla gestione, a quello che era stato il ciclo di corso Andrea Agnelli, si sono sentiti in mezzo al nulla. All'interno di una nuova Juventus, che non conoscevano e che non potevano capire fino in fondo con altre persone. E non dimentichiamoci mai che le aziende sono fatte da persone e da rapporti interpersonali. Quindi non mi stupisce in realtà questa notizia. Anzi, mi sembra normalissima perché manca proprio un vero e proprio appoggio, forse dire una parola forte, ma potrebbe anche essere vera di tipo politico nei confronti di Massimiliano Allegri. Perché Massimiliano Allegri è a tutti gli effetti uno degli allenatori con più presenza e più vittorie sulla panchina della Juventus. E quindi si è guadagnato anche uno status differente dal trenatore, soprattutto agli occhi di Andrea Agnelli. E infatti più di una volta abbiamo detto, soprattutto in questa stagione, c'è quasi più un rapporto di amicizia che va a limitare alcune cose. Poi, come dicevo nel video ieri, col senno di poi, la Juventus in quel momento non stava pensando allo sport, non stava pensando al campo, non stava pensando allo spogliatoio, non stava pensando ai risultati. La Juventus in quel momento stava pensando a tutta altra roba e non mi stupisce quindi il fatto che non sia stati presi i provvedimenti perché sarebbe stato inutile, ma questo è un po' il discorso che facevo nel video di ieri. E quindi si è passati da una situazione in cui Allegri voleva rassegnare dimissioni a una situazione in cui Allegri diventa il fulcro vero e proprio della Juventus. Alzi la mano una persona singola nel mondo che uno o due mesi fa, nel momento clou, quando si perdeva da Monza, quando si perdeva da Maccabi, quando il discorso salernitana, eccetera, quando si usciva da Champions, poteva pensare di ritrovarsi al 30 di novembre con Allegri, con pieni poteri dal punto di vista sportivo all'interno della Juventus. Si è ribaltato il mondo, è una sorta di multiverso. Stiamo raccontando una storia che non doveva crearsi. Stiamo raccontando una storia parallela rispetto a quella che conoscevamo. Stiamo raccontando un'altra cosa e non stiamo parlando di calcio, purtroppo. Non stiamo parlando di calcio, nonostante un mondiale in mezzo, nonostante le prime squadre qualificate agli ottavi di finale, di un mondiale. Mi sarebbe piaciuto entrare un po' più nella discussione dei mondiali nel momento clou. Infatti ora che stanno finendo i gironi e inizia agli ottavi, mi piacerebbe parlare un po' più di sport, ma come si fa in questa situazione? E infatti cosa succede? Che lunedì sera c'è questa cena tra Allegri e Cherubini che vengano poi raggiunti da presidente, ex presidente, Andrea Agnelli. Cioè mi sembra la trama di un film. Un po' come se a un certo punto si ritrovano dentro una taverna questi protagonisti di un film e fanno questo discorso e Allegri e Cherubini lì per lì guardano Agnelli e dicono ci rimettiamo anche noi, Agnelli con più nessun potere da presidente della Juventus dice no. E loro comunque accettano il no. Cioè me la sto immaginando così, poi magari non è andata così, però farebbe anche sorridere, perlomeno sorridere. È apprezzabile questo gesto di Allegri? A livello umano è apprezzabilissimo questo gesto di Allegri perché si rende veramente conto che saltando Agnelli che era stato l'artefice del suo ritorno e della sua permanenza anche nei momenti difficili, capisce che non è più il suo luogo, non può fare più l'interesse della Juve e forse nemmeno il suo personale quindi è disposto a fare un passo indietro proprio perché va a mancare il suo più grande supporter. Invece no, rimane lì. E a quanto pare Agnelli avrebbe detto vincetemi un trofeo già in questa stagione con Elkan che ieri conferma Allegri e qualcuno mi diceva ma ha confermato Allegri e quindi lo sapevamo tutti, non c'è niente di strano in questo. E no, è qua che vi manca un pezzo. È qua che vi manca il pezzo. Perché davvero, secondo voi, all'interno di quello che è accaduto non è venuto più di un dubbio all'allenatore a cui va a mancare quell'appoggio cardine come Andrea Agnelli? Se Elkan è arrivato a confermare Allegri in questo momento è perché c'è stato seriamente un momento in cui Allegri aveva il dubbio se rimanere o meno alla Juventus senza Andrea Agnelli. Perché se no non lo conferma perché lo sappiamo, è banale e lì non è stato esonerato nel momento clou lo esonerano adesso nel momento di caos certo che no, se viene confermato è perché c'è stato un momento ballerino. E Elkan dice in realtà non lo dice esattamente ma la ricostruzione parla di questo Elkan è disposto comunque a dare altro supporto e sostegno alla Juventus a livello economico come ha fatto in tutti questi anni con Exor e per quello che vi dico ragazzi dal punto di vista sportivo non ci può essere una retrocessione in Serie B la Juventus non aveva delle impossibilità a registrarsi al campionato con Exor alle spalle questi due aumenti di capitale da quasi un miliardo di questi ultimi anni perché si è lavorato male l'abbiamo detto mille volte perché se no non c'è bisogno di fare un aumento di capitale due aumenti di capitale da quasi un miliardo di euro e non so chi nel mondo sia disposto a fare una roba del genere per una squadra di calcio la Juventus ha i soldi per scrivere se ce li aveva quindi parlare di retrocessioni in Serie B è follia è follia si può aprire uno spiraglio legata a dei punti di ripenalizzazione per determinate stagioni coinvolte quello sì però deve saltare fuori dopo tutti i dati e tutti i ritardi dei pagamenti di stipendi tutte queste cose legate eventualmente al nero lo spostare all'interno del bilancio sono cose delicate di cui io non ne so niente non posso parlarvene intanto perché non ne ho la competenza e poi perché manca tutto in mezzo perché non c'è ancora stato un processo perché non si sa ancora niente se verrà fuori quella roba lì è dei punti di penalizzazione e se potrebbero venire fuori però c'è da scavare che perché ricordo che erano sei squadre coinvolte in questa cosa degli stipendi durante la prima ondata di Covid tra l'altro mi fa ridere tornare a parlare di Covid nel momento in cui prendo la mia prima positività al Covid che erano al di là del patto stipulato tra di loro del firmare per non ricevere subito erano Sampdoria Genoa Inter Crotone e ce n'era un'altra che in questo momento non mi viene in mente erano 4-5 squadre in Serie A che avevano questo ritardo degli stipendi la Lega Serie A aveva posticipato questa cosa del pagamento degli stipendi quindi cioè in quel momento lì tutti avevano avuto dei problemi o comunque tanti quasi stiamo parlando di queste 5-6 squadre più quelle che avevano sottoscritto questa carta con appunto i giocatori per il ritardo degli stipendi stiamo parlando praticamente di mezza Serie A mezzo campionato in un momento di emergenza di pandemia come quello del Covid quindi in quel momento lì tutti avevano dei problemi e ognuno si è aggiustato come poteva cioè addirittura è stata cambiata una regola una data posticipata una data per il pagamento degli stipendi perché se no la Serie A saltava perché se no si doveva andare dei punti di penalizzazione a tutti in Serie A quindi capite che stiamo parlando di un momento delicatissimo momento delicatissimo e adesso vengono a fare le pulci a una sola squadra a una sola cioè questa cosa è clamorosa mi fa un po' mi fa un po' sorridere per non dire incazzare per non dire incazzare perché è clamorosa perché è clamorosa perché ci sono state delle porcate sul discorso stipendi durante l'epoca Covid perdonatemi ci sono state delle porcate che sono diventate giustificabili per via di un momento di emergenza mondiale e vengono a rompere i coglioni la nostra squadra va bene va bene d'accordo torniamo un attimo in topic sull'argomento del giorno e quindi le dimissioni di Allegri perché poi c'è stato a quanto pare un confronto con la chat di squadra che è stata definita rovente e anche qui non fatico a crederci perché ragazzi io cioè spesso ci dimentichiamo che comunque una squadra di calcio composta da persone da ragazzi magari molto più piccoli di noi anche io in questo momento ho 30 anni quindi sarei uno dei senatori da Juventus uno dei più vecchi all'interno dello spogliatoio sono classe 92 e quindi mi immagino anche tanti ragazzi più giovani di me già io sono ignorante sull'argomento figuriamoci magari dei ragazzi che non hanno nemmeno avuto l'opportunità magari di intraprendere un percorso anche universitario che quindi non hanno avuto l'opportunità di imparare determinate cose che io stesso non ho imparato perché non le ho studiate queste cose io mi sono iscritto economia e commercio dopo due mesi mi faceva vomitare sono scappato quindi figuratevi quanto mi può piacere parlare di bilanci questa roba qui quanto ne posso capire meno di zero da livello giuridico legislativo ancora meno ancora meno quindi sicuramente non sono la persona adatta per parlarvi di queste robe qui però immaginatevi un calciatore che si ritrova ecco me lo leggiamo noi sul telefono ma come Agnelli si è dimesso che cazzo sta succedendo e magari era passata anche questa voce si rimette anche Allegri per quello che ieri sera vi dicevo ragazzi in questo momento tenetevi stretti qualsiasi allenatore tenetevi stretti qualsiasi allenatore perché è fisiologico e naturale che mancando Agnelli poi Allegri dica oh sai cosa rimango a fare io qui così come un cucureddu cosa rimango a fare niente allora mi levo dalle palle anch'io provate a immaginare la squadra come la può prendere se vi mette il vicepresidente all'allenatore in un momento in cui alcuni sono in ferie perché non si sono qualificati al mondiale altri sono al mondiale magari si gioca la partita decisivo magari sono qualificati per gli ottavi devono giocarsi eliminazione diretta al mondiale e quindi della Juve non si stanno concentrando poi tornano a casa si ritrovano in questa situazione c'è il mercato di gennaio e tra poco un attimo chiedere le cessioni un attimo un cicinino quindi e non è detto che non accada comunque attenzione non è detto che non accada comunque però tenere almeno quel collante lato squadra lato spogliatoio in questo momento è essenziale è importantissimo poteva essere chiunque nel mondo in panchina in questo momento ma facendo saltare tutto il CDA in una situazione così delicata lato Juve far saltare anche l'allenatore sarebbe stata una follia quindi Allegri ne esce benissimo non bene da questa situazione benissimo benissimo perché era disposto a fare un passo indietro perché non c'entrava più niente in quella Juve che lo aveva scelto e nella quale aveva scelto di tornare passo indietro no Max ci servi se salti anche te è un disastro va bene passo avanti io ieri vi parlavo di giugno come momento in cui poi si deciderà che cosa fare dell'aiuto del futuro e quindi non dico che mi immagino Allegri come una sorta di traghettatore ma credo che ci possa essere stata una piccola trattativa privata senza scrittura quindi in amicizia del tipo non molli adesso fino a giugno rimani provi ad alzare un trofeo provi a salvare la stagione provi a qualificarci per l'Europa perché è importantissimo dal punto di vista economico raggiungere determinate cose e poi a giugno ci salutiamo in amicizia con una buona uscita dato che questa non è più la tua Juve e noi cerchiamo di fare un progetto diverso da quelli che abbiamo attuato negli ultimi anni e comunque dando continuità un po' a quelle che erano state le idee degli ultimi due anni perché gli ultimi due mercati estivi ragazzi sono stati al risparmio super risparmio rendiamoci conto perché quello precedente in cui c'è di Ronaldo che tra l'altro è vicino all'Aslar non lo so per 200 milioni l'anno una follia una follia per quanto riguarda Ronaldo ma vabbè farà ci suoi Ken e Locatelli con pagamento dilazionato bla 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 tra l'altro Ken c'è l'obbligo di riscatto quest'estate lì c'è da ridere e per quanto riguarda quest'estate è stato fatto praticamente un mercato con la sola accessione di elite e basta dal punto di vista economico non hai tirato fuori nient'altro quindi già gli ultimi due mercati erano andati all'insegna del risparmio tranne quello invernale dove hai preso Vlaovic ma avevi ceduto Bentancur e Kuluseski quindi dove eri riuscito tra virgolette sistemare la situazione a livello economico così quindi gli ultimi tre calciomercato della Juventus sono stati di poco conto di poco livello anche quello precedente dove prendi Chiesa sì c'è Chiesa in prestito con obbligo di scatto due anni dopo quindi l'hai pagato quest'estate però sono tutte queste formule di pagamento più avanti perché in questo momento non ce la facciamo perché il covid ci ha fatto male come un po' a tutte le squadre no? infatti chi vince il campionato l'anno scorso è il Milan che opta per questa politica differente in cui i costi sono abbattuti quasi completamente in cui si investe su determinati profili e basta che diventano poi anche rivendibili se determinati giocatori chiedono X per il rinnovo si fanno andare via si cercano altri giocatori c'è una rete di talent scout ma i gnan al posto di Donna Rum che si vuole rinnovare no? niente non se ne fa nulla ciao grazie questo è il futuro del calcio in Italia non ci sono soldi ma lo diciamo da un pezzo e ora diventa obbligatorio anche per la Juve diventa obbligatorio anche per la Juve per questo che è il sogno che all'interno della Juventus venga aggiunta una figura come era Paratici all'inizio quindi quello bravo andare a scovare il determinato giocatore a poco prezzo perché tante volte si dice che Vidal è di Marotta Vidal è di Paratici Vidal è di Paratici Pogba è di Paratici Chiese è di Paratici poi Chiese è stato pagato tanto è vero gli altri due perlomeno perlomeno e quest'anno chi è primo in campionato il Napoli che ha fatto la stessa cosa via Koulibaly via Insigne via tutti i giocatori importanti dal punto di vista della nomea che guadagnavano stipendi importanti via Mertens quelli che hanno fatto la storia i senatori rete di scouting costi ridotti giocatori impattanti Kim Kvara eccoci qua questo è il futuro della Serie A del calcio italiano e non solo dal punto di vista economico lo stiamo vedendo dal punto di vista sportivo perché Milan ha già vinto e Napoli e Milan sono le prime due quest'anno e Napoli comunque l'anno scorso è rimasto all'interno della competizione per un bel po' Juve e Inter sono due squadre invece che stanno seguendo negli ultimi anni progetti diametralmente opposti e cioè prendo il calciatore che la nomea gli pago lo stipendio gli pago l'ingaggio quello che è sono anche due squadre che con gli stipendi hanno avuto dei problemi sul pagamento degli stipendi hanno avuto dei problemi poi hanno vinto anche loro perché negli ultimi anni hanno vinto Juve Inter Milan adesso vediamo se vince il Napoli quindi la strategia a seconda di quello che è però attenzione che poi se se non ci si può più permettere in questo momento determinate manovre abbandoniamole totalmente anche perché sono abbastanza indiscutibili nel senso che sono tra virgolette usa e getta e se devi competere pieni piani alti in Europa te la posso passare quando invece non passi gli ottavi o esci i gironi c'è ancora meno da dire quindi torniamo a ragionare sul nostro articello torniamo a ragionare sugli scudettini come li chiamavano in tanti io pagherei per vincere uno scudettino oggi torniamo a ragionare sul diventare competitivi in Italia torniamo a ragionare sul modello di Juventus che ci ha portato a Berlino quella con i conti in ordine e tutte queste cose qua perché fino all'acquisto di Higuain quindi l'accessione di Pogba i conti della Juventus erano super in ordine poi si è provato a fare il passo più lungo della gamba e da Ronaldo in poi è scoppiato tutto ma questa è un'altra storia